fratelli bianconeri e sorelle bianconere eccoci qua siamo dentrissimo napoli juventus ma soprattutto siamo entrati ufficialmente nella lotta per il secondo posto e dopo il percassi furioso finito a pagina 9 ecco l'ottito furioso rimpicciolito a pagina 1 e tutto il resto finito in un nulla di fatto in un nulla di fatto nel nulla la parola di oggi è nulla ma state attenti fino alla fine del contenuto iscrizione al canale immediata grazie mille insieme al like i vostri commenti e la campanella per essere raggiunti raggiunte ovunque voi siate e sì perché non sarà sfuggito ai più attenti come dopo inter atalanta due episodi chiavi non due contestati asparamente da percassi un altro e alto dirigente della dea sono finite le polemicuzze a pagina 9 della grazza tanto ormai quello scudetto lo vanno a vincere nessuno più sicura di loro figurati è successo prima quando erano punto a punto con noi adesso che hanno i punti di vantaggio ancora più alla luce del sole e nessuno fa la polemica dovuta è ma è ma la prova del 9 l'abbiamo oggi con l'apertura dei quotidiani le loro moviole il minan vince a lazio 1 a 0 con gol all'ottantottesimo arriva a meno un punto dalla juventus e la lazio finisce in otto e c'è ancora discussione sul rigore non dato alla lazio lo tito ne dice ne racconta di ogni nel post partita denuncio sistema andiamo in altre sede insomma roba altro che percassi furioso che lo tito butto giù il calcio dovrebbe essere più o meno il titolo ma in prima pagina va colpo da diavolo e piccolino c'è un lotito furioso mentre il corriere dello sport fa il diavolo è di bello e lotito è bello grosso e ovviamente poi le piazze sono anche un po diverse ma la domanda poi finale è sempre quella prima dei dettagli ricordate la supercoppa con il napoli cosa è successo nelle prime pagine dove tra l'altro l'arbitro aveva preso decisioni tutte corrette anzi napoli doveva avere già qualche spulso dopo i primi dieci minuti di gioco tutto correttissimo venne giù il mondo c'è qui c'è la lazio che finisce in otto ora la squadra che finisce in otto è roba narissima non è roba da tutti i giorni eppure è un colpo da diavolo non c'è non c'è furia lotito scritto grosso così o lazio in otto così perché dai non è la roba da tutti i giorni e invece no la parola meravigliosa di oggi è nulla oppure non lettura attenzione attenzione gli episodi della partita pellegrini pulisic è quello che fa più rumore perché dopo pulisic è sempre in mezzo a tutti perché pellegrini viene espulso ma prima prima a metà campo castellanos a terra con anche il labbro che sanguina l'arbitro sbaglia a non fermare l'azione si prosegue dall'altra parte e pellegrini sul fallo laterale si va a beccare il secondo cartellino giallo ora è evidente che quell'azione andava fermata e quindi la lazio si ritrova con un uomo in meno in maniera errata e soprattutto c'è anche una mancanza di fair play perché che che ne dica pioli i giocatori del milano dovevano fermarsi tutti anche loro e capire la situazione ma secondo la moviola in questo caso è una non lettura secondo la moviola ragazza è una non lettura quindi mettetevela lì non ha letto bene adesso non ha letto bene se non sa leggere non c'è mica nessun problema poi guendunzi si becca anche un rosso ma non c'è nulla sembra che non ci sia nulla di violento su pulisic ma intanto se lo becca poi marusi si becca un rosso perché forse ha detto qualcosa di troppo e siamo a tre sul gol del milan a inizio azione pare anche qua non esserci nulla insomma una partita dove alla fine può anche non essere successo nulla secondo la moviola di qualcuno mentre secondo la moviola del corrido dello sport l'arbitro si becca tre come i tre rossi un punto per ogni rosso dato alla lazio e e c'è anche un rigore contestato dalla lazio che è divertente perché secondo la moviola di uno cioè della gazzetta magnan che esce su tati non è rigore perché non può smaterializzarsi il portiere si lo travolge però è mica può smaterializzarsi secondo il corrido dello sport è castellanos che non può scomparire e soprattutto che ha la disponibilità del pallone quindi da regolamento sarebbe anche calcio di rigore quindi tre rossi un rigore dato alla lazio moviola dalla parte tre moviola dall'altra parte una non lettura non c'è nulla da un po di nebbia diciamo così c'è un po di nebbia idee annebbiate dall'arbitro ma cosa volete che sia non è mica sufficiente per andare in prima pagina questa è la moviola della lotta al secondo posto perché ormai juve mira si giocano il secondo posto poi abbiamo la fantastica sceneggiata napoletana di arentis perché giustamente sul tutto sport oggi campeggia questo titolo anche banale se volete che però dovrebbe essere come si affronta questa nuova idea brillante che è venuta probabilmente al pool di legali di aurelio della orientis di fare un ricorso che qualcuno definisce preventivo nel senso metti che io non mi qualifico al mondiale perché ho già pronto il ricorso per la juve e invece no come vi anticipavo il problema non è che voi dite sì vabbè ma quello le spara no il problema è che poi sui quotidiani di oggi da tutti viene ripresa come notizia affrontata dove può attaccarsi come regolamento ma lo fa veramente attenzione allora dopo sarà tutto in discosso cioè c'è l'analisi di una sceneggiata siamo arrivati a questo punto qua tra l'altro miglior modo di presentare napoletana direi che non c'era il ricorso preventivo e quello è ovviamente una scusa e già l'abbiamo spiegato nel contenuto di ieri ma l'analisi logica tra l'altro del pensiero che viene fatta oggi dovrebbe portare a questo finale e a queste conseguenze nel percorso del pensiero folle di avorelio della orientis innanzitutto innanzitutto che la juventus ha messo in un concesso che parteciperà al mondiale per club partecipa al mondiale per club di giugno 2025 non questo il prossimo quindi la juventus è stata penalizzata e squalificata dalla champions di quest'anno e non dalle competizioni dell'anno a venire a meno che non vi inventate qualcosa che noi non sappiamo e quindi che c'entra che la juve è stata esclusa dalle coppie è stata esclusa dalla coppa di quest'anno non da quelle dell'anno prossimo altrimenti cosa fa si qualifica il campionato per la champions non fa la champions l'anno prossimo ma che razza di ragionamento è in seconda istanza non può essere punita due volte la juventus perché è stata penalizzata quest'anno non fa le coppe non fa la champions e non facendo la champions non può conquistare dei punti sul campo che gli spetterebbero quindi è stata penalizzata già non è che siccome è stata penalizzata l'anno scorso perché un rivolo di ragionamento è questo attenzione siccome è stata penalizzata l'anno scorso gli devi togliere i punti l'anno scorso allora però mi dai la competizione di quest'anno me la fai partecipare e mi fai conquistare dei punti sul campo siamo veramente alla follia totale ma soprattutto a parte il fatto che la juventus è stata penalizzata per plus valenze di cui napoli e oreglio della volente sanno un procedimento ancora in corso con l'accusa di falso in bilancio tanto per essere chiare ma soprattutto la famosa meritocrazia va vincere qualcosa sul campo partecipare a qualcosa sul campo no sembra brutto la meritocrazia non il pedigree il mondiale per club non si fa per pedigree non si fa per la storia ci si qualifica con le ultime cinque champions con le ultime partecipazioni con i punti delle ultime partecipazioni sul campo sul campo quindi se la juventus si qualifica sul campo nonostante un anno senza punteggi vuol dire che nel famoso quinquennio ha fatto molto meglio sul campo della tua squadra che doveva aprire cicli inenarrabili e che invece sta già finendo così da dove era partita qualche anno fa nella speciosa e inutile polemica questo era vediamo la conferenza stampa di massimiliano allegri scopriamo le carte in vista del big match sul campo cerchiamo di capire come andrà a giocare questa squadra con tutte le defezioni che ha e poi domenica sera per quanto riguarda la classifica si vedrà voi siccome chi ha tempo non aspetti tempo iscrivetevi subito al canale mettete un bel like al video commentatelo e azionate la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate